La figlia di Gwendalina Tavassi tenta la carriera nel mondo dello spettacolo. Ma cosa sappiamo di Gaia Nicolini? La figlia maggiore di Gwendalina Tavassi, Gaia Nicolini, sta partecipando alle selezioni di Miss Italia, il noto concorso di bellezza della famiglia Mirigliani. La ragazza ha passato le semifinali e sua mamma non potrebbe essere più orgogliosa. Si apriranno anche per lei le porte del mondo dello spettacolo? Leggi anche, Remo Nicolini, chi è l'ex marito di Gwendalina Tavassi e padre di Gaia? Età, Claudia Losito, figli, lavoro, foto oggi, Instagram La figlia di Gwendalina Tavassi tenta la sfida di Miss Italia Gaia Nicolini, la figlia di Gwendalina Tavassi, sta partecipando alle selezioni di Miss Italia, sebbene il famigerato concorso di bellezza sia un po' stato oscurato da altre trasmissioni, continua a fare breccia nel cuore di molte ragazze. Sembra che la maggiore dei tre figli della showgirl romana abbia intenzione di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, esattamente come sua mamma. E inoltre, possiamo dire che avrebbe una certa visibilità. Fino a oggi Gaia Nicolini non si è pronunciata circa il suo interesse per il concorso di Miss Italia, ma in molti sostengono che abbia tutte le carte in regola per partecipare e, perché no, vincere. La figlia di Gwendalina Tavassi ha raggiunto le semifinali e la prossima tappa sarà decisiva per rientrare a far parte delle finaliste che si giocheranno l'iconica coroncina e lo scettro Gaia ha compiuto da poco 18 anni e sua mamma ha lasciato anticipatamente l'isola dei famosi proprio per passare con lei questo giorno speciale. In passato le due donne non hanno avuto un buon rapporto e si sono trovate spesso a scontrarsi, come capita durante la fase dell'adolescenza, ma oggi il peggio sembra superato e mamma e figlia hanno un ottimo rapporto. Durante le selezioni, infatti, Gwendalina ha mostrato orgogliosa sua figlia Gaia sulla passerella. Gaia durante le selezioni di Miss Italia Chi è Gaia Nicolini? Gaia Nicolini è nata a Roma nel 2003, dalla relazione di Gwendalina Tavassi e Remo Nicolini, i due si sono lasciati poco dopo aver dato alla luce la piccola. Inizialmente non sono stati in buoni rapporti, ma oggi sembra che le cose fra loro siano cambiate. Gaia vive con suo padre e la nuova famiglia di lui, ma ha un bellissimo legame con i suoi fratellini minori, nati dalla storia d'amore fra la Tavassi e l'ex marito Umberto da Ponte. Seguici su Instagram cliccando qui. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!